Queste sono le ciliegie e di fatti, queste sono le fragole e infatti sono già pronte, domani le veniamo a raccogliere, le fragole. E allora se le raccogli già domani, ci sono i, come si chiamano, i tappani, se le raccogli già domani, le raccoglievi già prima. Follia, per la follia, va bene, però sui pomodori, vedi, ci sono i fiori, ma ci hanno fregato, non ci hanno dato i frutti, non ci sono i pomodori sopra. E fa prima il fiore, fammelo prendere dai. Le fragole già ci sono, e invece i pomodori non ci sono, ci hanno fregato. E perché è ancora presto, lo so che scherzi. Vabbè, è tutto, abbiamo il mare, questo, quello che ti piace tanto. I peperoni? I peperoni. Ma sono quelli lunghi però. Ma sì, quelli italiani sono quelli lunghi. No, no. Sì, sì, come no. Lunghi sì. Non sono lunghi, ma quelli larghi. Sì, poi abbiamo anche la melanzana. La melanzana, bella. Sì. Prendiamo tutto. Sì, è tutto. Altre piantine. Vai a prendere la melanzana sopra lì. Altre piantine. Prendile piano piano. Ah, non so. Altre piantine. Questa vedi? Che fragolona. Non è una fragatura, è già pronta. Eh, grazie. Così non la dovrà tutta essere. Eh. Che muschio. Ma quelle. Che qua, da queste parti c'è sempre il muschio. Il muschio che va bene per il tresepe. Eh, un po'. L'ufficello lo sistemeremo, eh. Dateci il tempo. Ciao a tutti. Piano piano ce la facciamo. Gennaro Gelmini, Anna Rinaldi. Oggi, eh? Oggi? 22. 22. 22 maggio, eh. Una giornata che a te piace sempre tanto. Almeno, solo adesso è uscito un po' di sole. Un po' di sole è uscito adesso. Va bene. Abbiamo avuto un freddo enorme. Eh, vabbè, adesso è bello. Ciao, ciao. Ciao. Il nostro orto, il primo giorno che veniamo qui nel nostro orto e poi dopo mettiamo tante cose, l'insalata, i ravanelli. No, no, le patate prendiamo come abbiamo fatto sempre anche sul nostro balcone. Eh, facciamo allo stesso modo. E poi, che altro mettiamo? Lì c'è, c'è un alberello che fa le bacche rosse, non sappiamo che frutto è. Poi vedremo. Qui c'è un'insalata cresciuta molto. E' grandicello questo orto, eh. Bello grandicello. Questa è l'entrata, che poi dobbiamo fare l'entrata, belli, è l'inizio del campetto, eh. Ecco. Poi, lì è su, eh. Bello. Che bello. No, noi faremo il nostro come si deve, non sappiamo. La mamma che annaffia le piante. Che annaffia anche Gennaro. Dopo una settimana, siamo subito venuti qui, ed erano cresciute, alte. Ah beh. Anche qua, anche qua. Sì. Mamma mia. Mi sto bagnando tutta la battaglia. Sono cresciute, più che altro, tutte le piantacce, tutte le piante, le piante infestanti qua sono cresciute, mamma. Eh? Sono cresciute le piante infestanti. Ma no, queste sono, eh, dimmi come si chiamano perché... I ribes, quelli là, ribes, ribes. Ribes. I ribes. E le fragole? Le fragole c'era lì. Le fragole sono qua, guarda. Ma stai attento però. C'era lì la fragole. Qui c'è una fragole. Vabbè. Buone cose, così la mamma adesso si muoverà come una fanciulla di vent'anni a sistemare tutta sta roba. Sì, sì, lo fai tu e io guardo. Facciamo anche ginnastica. Ginnastica. Sa mamma Anna e tu prendi un orto per fare ginnastica. Fai ginnastica con la zappa. E non abbiamo gli arnesi domani. L'acqua. Grazie a tutti La mamma Anna con una pianta di patata Fai vedere questa pianta di patata Che adesso raccogliamo le patate un po' prestino perché dovranno crescere di più Va bene Vanno bene? Sì, ma tirole un po' più su così Ecco, così, quante patate sono? Un po', vabbè, dovevano crescere di più Eh, non so come mai sono venute fuori da soli È autunno, stavamo zappando per l'autunno e poi sono venute fuori queste patate Belle, eh, però Vedrai quanto, quante ne vengono fuori ancora? Prendi quel pomodoro, dai, quei pomodori lì Ah, pomodori cuore di bue E qui uno piccolino Vabbè, piccolino che neanche si vede dopo Sì, si vede Eccolo qua Aspetta Guarda che bello Guarda, questa è cresciuta chissà come Aspetta Eh, un po' da sistemare perché è venuto il vento È venuto il freddo Guarda, e che profumo di pomodori Siamo al... Sai che non mi ricordo mai la data Che giorno è? 16, era ieri? Oggi è martedì 17 Martedì 17 17 settembre 2013 Guarda quanto è alta questa pianta Sì, sì, ma quella è un po' monscia per il freddo Ma il profumo Ma il profumo che c'è, già quello ti sazia Già quello ti... Beh, i cuore di bue È bellissimo I pomodori di cuore di bue profumano È bellissima proprio Martedì 17 settembre 2013 Ecco Poi qua c'è un ciuffettino Di pomodori piccolissimi Le ciliegine, guarda Eh, vabbè, però mamma Adesso dobbiamo darci da fare Purtroppo si è crescita un po' di erbaccia Eh, ma lo stiamo togliendo l'erba, eh Ah, stavo dicendo qui altre patate Invece è quella pianta lì Vabbè, dai Ecco, va bene Questa tiene qua sopra Tiene? Se no la leghiamo, dai Tiene qua Dove devo metterla? Non beh Bye Ciao 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 Ciao